Ciao, continuiamo a guardare un po' dei modifier che abbiamo a disposizione per gli oggetti Grease Pencil. Riprendo questa animazione del gatto, nel quale abbiamo diversi oggetti Grease Pencil, c'è il gatto, c'è lo sfondo, e vi ricordate che avevamo rigato il gatto. Ecco, il rig è responsabilità, il suo funzionamento, proprio di un modifier. E infatti, eccolo qua, il modifier Armature nell'oggetto gatto lo trovo, anche se non l'ho creato esplicitamente, ma quando si assegna un rig all'oggetto Grease Pencil, quello che viene utilizzato è il modifier Armature, che appunto, volendo, potrebbe essere assegnato anche a mano. Comunque, vedete, in questo momento l'animazione è pilotata da quello. Se io nascondessi il modifier Armature, il mio rig si muove, ma l'oggetto Grease Pencil non viene trattato, non viene deformato dal rig. Quindi il responsabile di questo è il modifier Armature. Ce ne ha altri che servono a deformare, che potrebbero essere più semplici di Armature. Per esempio, possiamo vedere fin da subito quello che si chiama Hook. Hook significa usare un altro oggetto per deformare la posizione del mio disegno. Mi serve un altro oggetto, magari momentaneamente bisogna creare o averlo, insomma, un oggetto che vogliamo che piloti la mia deformazione. Per esempio, mi metto qui, a livello della coda. Nascondo momentaneamente il rig per non avere confusione e aggiungo un empty. Potrebbe essere anche un oggetto solido, però uso un empty per praticità. Se adesso al mio gatto, lasciando perdere che ha il modifier Armature, ci aggiungo il modifier Hook e, come vedete, è rosso perché non funziona fino a quando non gli dico qual è l'oggetto che appunto fa da pilota, diciamo. È il mio empty. Posso pescarlo come con il contagocce. Eccolo. E adesso vedete che si è già spostato. Se io prendo il mio empty e lo porto in giro, il gatto viene portato in giro dall'empty. Però vedete che non corrisponde esattamente. Questo è determinato da questa strength. Se io questa strength la metto a zero, allora il mio Hook non fa niente al disegno. Se la strength la metto a uno, dove porto il mio empty viene anche il gatto. Se ruoto, ruota. Se scalo, scala. Quindi il modifier Hook mi permette appunto di fare questo tipo di deformazione. Non sembra davvero una deformazione per ora perché ovviamente sta muovendo l'intero oggetto Gris Pencil, l'intero disegno allo stesso modo. Però ricordatevi appunto che è possibile funzionare per esempio solo su un livello. Quindi ad esempio noi avendo creato qua diversi livelli, se io scegliessi coda colore, adesso con il mio empty sposto solamente il livello con il colore della coda. Quindi potete utilizzarlo per spostare solo parti del disegno utilizzandone i livelli. Oppure c'è la possibilità di usare i vertex group anche qui. Quindi siccome questo personaggio aveva già diversi vertex group, se andiamo nel white paint possiamo vedere che ce n'è diversi. Li avevamo creati qua giù. Eccoli qua. Ce n'è diversi. Volto, zampa, coda. Coda 008 per esempio è l'ultimo della coda. Quindi di conseguenza se nel mio modifier, torno in object mode, dico che mi interessa spostare coda 008 con il mio empty, ecco che questo empty mi sposta solo i vertici di coda 008. Li può scalare, li può ruotare. Lo cancello. Lo vogliamo fare in qualcosa come la zampa ad esempio. Mi sposto qui e questa è la... quindi l'ho messo diciamo al centro della zampa a destra. Nel mio disegno metto hook, scelgo l'empty, scelgo la zampa, zampa 1R e adesso il mio empty comanda lo spostamento della zampa che ovviamente in questo caso è con una strand di 0,5 però se metto a 8. Quindi vedete adesso portandolo in giro posso deformare con i weights che ho creato. Posso deformarlo. Ricordatevi sempre la questione delle origini. Il mio gatto ha l'origine qui e quindi le deformazioni che vedevamo prima erano sempre spostate. La cosa migliore è creare l'empty di controllo, quindi per esempio appunto questo. Ammettiamo che questo debba poter spostare il volto. Se l'ho creato nello stesso posto in cui si trova l'origine del disegno è più facile. Quindi magari qui scelgo vertex group volto, l'oggetto è l'empty, adesso vedete che non si è spostato e spostare l'empty sposta il volto e appunto posso decidere con la strength. Tra l'altro notate che strength è animabile per cui può essere un modo col quale creare delle deformazioni, neanche questo, con una leggera animazione. In questo momento per esempio il volto si sposta per via dell'animazione dell'armatura, però c'è anche look e quindi si comporta in maniera mista e quindi sta agendo l'armatura e sta spostandosi anche grazie al look. Questo potrebbe essere utile in animazione, nel senso che magari potrei avere un'animazione del hook oppure potrebbe essere che decida di animare il valore di forza del look per creare ulteriori deformazioni. Se vado nel mio oggetto nei modifier posso scegliere che qua la strength è 0 e registro questo valore, dopodiché in questo momento al fotogramma 33 posso fare strength 1 e allora potete notare che nel momento in cui la strength va a 1, il look ha tenuto giù il volto e magari qua giù torna ad essere 0, torno a registrare e quindi in questo modo ho aggiunto un'ulteriore deformazione che posso anche facilmente controllare spostando questo elemento che funziona solo in un certo momento, una certa situazione che magari potrebbe essere uno squash and stretch, quindi cade e arriva sul pavimento, io stringo il mio empty e vedete l'oggetto si deforma però lo fa solo in un certo momento. Questo ovviamente è un esempio diciamo che non funziona però immaginate di utilizzarlo da altre parti, è un'aggiunta ulteriore soprattutto perché è animabile. Grazie e alla prossima!